36 minuti prima dell'omicidio di Pierina Paganelli Luis da Silva manda un messaggio vocale ad un suo amico il tono è sereno non sembra uno che sta per commettere un omicidio il telefono conferma che in quei minuti il senegalese è fermo e immobile mi ha fatto morire per ridere la moto è così un mese che ce l'ho prendo il tutto il gusto di voler farsi cose tutte e dopo è andato così io non mi sono fatto male moltissimo le cose che lo cavo sono delle ferite che si riesco a farli passare dai si guarisce ma niente di rotto niente di di gravid è vero che il botto di sfiga c'è però ti dispiace di morire e risparmi due soldi per andare in Senegal e devo mettere in una moto e poi va ehi non dimenticare di iscriverti a questo canale ehi non dimenticare di iscriverti a questo canale